Grazie a tutti. 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 vita nuova a sottovalutarvi o la sua Ravenna? E comunque ha puntato molto sui demeriti propri che non sui vostri, non so se te condividi. A Ravenna mancava un giocatore sicuramente importante perché ha un dito rotto, che è un marescial, questo schiacciatore importante per Ravenna. Io credo che lui si riferisse alla sua squadra come atteggiamento, però d'altro canto quando una squadra gioca bene c'è sempre l'altra che magari non gioca al massimo. Comunque Ravenna ha fatto fino adesso un ottimo campionato ed è la sorpresa perché essendo quarta al ridosso delle prime noi siamo stati bravi a non calare mai di tensione, a metterli sotto fin dall'inizio. Merito nostro, un po' di demerito loro sicuramente c'è. E' anche un po' una legge dei grandi numeri coach Federici, qui ragioniamo sullo 0-0, una squadra che ha una serie positiva come Ravenna. La Taiwan Excellence che sia anche ai tie break, ma comunque veniva da quattro sconfitte con tante recriminazioni, ci doveva stare una svolta in questo campionato. Ma io la legge di grandi numeri come allenatore non sono abituato mai a guardarla. Guardo più al lavoro che si fa. Il cronista forse sia? Come? Il cronista magari sì. Il cronista sì, il cronista sì. Io guardo più al lavoro che si fa in palestra, ho ascoltato attentamente quello che ha detto Sottile e loro si stanno allenando con tante difficoltà e quando la squadra ottiene questi risultati con tante difficoltà significa che è una squadra, perché quando non ci saranno più queste difficoltà allora verranno ancora più fuori i valori di questi giocatori. Quindi è una squadra, mi sembra di aver sentito nelle parole di Sottile, che è consapevole dei propri mezzi, in questo momento sono consapevoli di quelle che sono le difficoltà, senza avere alibi, si va in palestra, si lavora e si va avanti. Quindi forse la vera forza è proprio questo. Andrea, vogliamo un attimo ritornare su queste difficoltà, perché poi magari non sappiamo che la gente vive l'evento per flash domenicali normale, quindi il rapporto con la propria squadra e la domenica in settimana, perché è difficile allenarsi, cosa accade? Accade che Savani, che è un punto importante per la nostra squadra, ha avuto dei problemi alla spalla che adesso sta risolvendo per fortuna e purtroppo l'assenza di un altro giocatore che fino a qualche settimana fa era con noi, è dovuto tornare in Giappone per disputare delle gare con l'università. Con la Cho University, ho capito bene, Ishikawa. Ishikawa, esatto. Due giocatori assenti dello stesso ruolo hanno comportato che Gitto sia passato a ricoprire uno di questi ruoli, che Gitto è un centrale, quindi ha fatto un'ottima gara a Trento, aiutandoci molto, ma sicuramente in allenamento non siamo un numero per fare un allenamento ad alto livello, ecco. Poi numericamente parlando, sì. Sì, esatto, perché... Mi viene da sorridere perché poi quest'anno, a difficoltà tecniche come in questo caso, si aggiungono anche quelle infrastrutturali all'inizio di stagione con questo Parabianchini, che non si sapeva di che morte dovesse morire. Come l'avete gestita, almeno mentalmente? Cosa pensavate che poteva accadere? Ma noi da giocatori devi prendere quello che c'è di buono, quindi per noi era importante allenarci, siamo andati ad allenarci a Sabaudia, quindi ci siamo allenati. Non era casa nostra, però insomma arriviamo a fine giornata comunque soddisfatti del lavoro che facevamo. Sicuramente con Parabianchini è tutta un'altra cosa perché oltre ad essere il luogo dove noi giochiamo e anche la comodità per svolgere fisioterapia, esercizi vari, è è il migliore che dover andare a Sabaudia a partire un'ora prima. Certo, non è proprio lì, è un angolo. Tornare la sera dopo un'ora, sono piccole cose che alla lunga si sentono. Per fortuna è durata solo tre settimane questa vicenda. Eri piccolino ma ti racconto brevemente un po' di storia. La Top Volley, il primo anno di Serie A1, giocò a Gensano tutto l'anno perché Gensano, località dei Castelli, che ormai è imparato a conoscere perché si è qui da quattro anni, visto che il Parabianchini era oggetto di lavori di adeguamento e ristrutturazione, è stato proprio alzato, le mura di cinta sono state praticamente alzate. Poi quest'anno è arrivato quest'altro parametro della Lega di ampliare la capienza, posti mobili, sedie e quant'altro. Poi qualcuno fa un po' di ironia, vedi la Pedini da Modena. Sì, purtroppo tutti gli anni lei deve dire qualcosa quando viene qua, ci dispiace perché magari non capisce l'impegno che c'è dietro per sviluppare un'attività così importante a Latina, nelle varie difficoltà. Eh sì, anche perché credo, Torino Federici, che una superlega in provincia sia fondamentale anche per il resto del movimento territoriale, in questo caso ad esempio una B1 femminile che è un campionato nazionale a tutti gli effetti. Sì, la federazione dovrebbe incentivare, dovrebbe aiutare queste società che fanno questi sacrifici e riescono a tenere un campionato così importante come la superlega a uno maschile. Io mi ricollego al discorso di prima, quanto sia difficile allenarsi sia per impianti, anche noi viviamo una problematica simile. E qua ti la domanda successiva era quella, come ve la passate ad apriglia? Male, ci la passiamo male perché abbiamo un impianto ormai datato, stiamo mettendo mano al prossimo impianto e speriamo che avvenga il prima possibile, ma questo ampliamento... Ma attualmente dove giocate? Come? Attualmente le gare in casa dove le giochiamo? Le giochiamo al pallone tenso statico di via Pergolesi ad apriglia. Pergolesi, quindi in futuro che non... In futuro ci sarà un centro sportivo, un impianto molto più bello per disputare delle gare... In questa zona? Sempre lì, stiamo provvedendo insieme al comune e all'amministrazione comunale di ampliare questo tipo di situazione. L'amministrazione comunale in questo momento c'è particolarmente vicino e quindi stiamo cercando insieme a loro di dar vita a questo nuovo impianto. È sempre un tema delicato quello dell'infrastruttura e della politica sportiva quindi... Ma quest'anno poi c'è la federazione che... Io ho la mia idea, sarebbe lunga da dire, ma quest'anno con la chiamata, con l'ampliamento delle A2 femminili, mancano circa 40 giocatori in B1 e se non si mette mano a incentivare i settori giovanili, le società sportive, se non si aiutano le società sportive, allora bisogna far venire gli stranieri. Cioè comunque in qualche modo bisogna trovare delle soluzioni, altrimenti noi siamo veramente in grande, grande, grande difficoltà. Noi abbiamo una rosa molto, molto stretta perché non ci sono giocatori e quindi in settimana facciamo fatica ad allenarci, ad avere degli allenamenti qualitativamente buoni e anzi, complimenti alle mie ragazze perché sono veramente brave ad allenarsi in otto e nove persone, più sparring che ci vengono a dare una mano e li ringrazio veramente con tutto il cuore. Altrimenti non potremmo dar vita a delle performance degne di essere chiamate, insomma, partite di pallavolo, ecco. Sparring partner anche nel vostro caso accade ogni tanto? Ah sì sì, abbiamo uno, un ragazzo soprattutto che viene ad aiutarci, che è Alex e poi abbiamo Cacioppola che ogni tanto si alterna tra noi e i giovanili dell'Atina, ecco. Però fanno il loro lavoro e ci aiutano molto ed è una cosa importante in questo momento dove non riusciamo a raggiungere un numero adeguato. Però mi viene da riflettere. Secondo contributo post-gara, Alex Pistolesi e il Presidente Falibene. Mi ha fatto molto piacere tornare a l'Atina perché è un posto dove sono stato bene, quindi mi fa sempre piacere tornare dove siamo stati bene e per quanto riguarda la partita purtroppo non siamo riusciti ad entrare subito nella gara e poi qua in questo palazzetto con una squadra come l'Atina è difficile giocare sicuramente. Se cominci male loro ti aggrediscono e poi è difficile riuscire a recuperare quello che perdi all'inizio. Quindi peccato perché stiamo facendo secondo me un buon buon campionato. Abbiamo lasciato sicuramente oggi una giornata un po' così, dobbiamo lasciarci alle spalle per ricominciare sabato subito contro Vibo che è un'altra partita fondamentale per noi. Una vittoria che aspettavate da un po'. Finalmente arrivata contro Ravenna, rivelazione di questo campionato. Qui a Palabianchini un altro 3-0 dopo quello con Civitanova. Cosa prova? Diciamo che scherzando prima avevo detto che ero pronto a spegnere la luce al palazzetto in caso di prolungamento della partita visto come stavano andando gli ultimi day break. A parte della battuta, sono partite che aiutano al morale della squadra, alle certezze. Quando poi vengono in maniera così netta chiaramente c'è anche un po' di demerito da parte dell'avversario oltre ai nostri indiscussi meriti stasera. Anche altre volte ho detto, visto tutte le difficoltà che stiamo vivendo dall'inizio dell'anno, che stiamo work in progress e stiamo lavorando in ottica playoff. Quindi andiamo avanti. Nonostante le difficoltà comunque, il Presidente l'ha detto, è in ottica playoff. Quindi avete una bella responsabilità. Belle le immagini di due super tifosi che vi seguono evidentemente da tanto tempo in questa stagione. È una stagione che però guardando anche un po' alla classifica credo che confermi l'élite della Superlega, le solite note, in difficoltà soltanto il Sora che in questo momento insieme a Castellana Grotte sta facendo un po' difficoltà, Monza compreso, insomma voglio dire. Per il resto però è un campionato bello livellato. Sì, tra l'altro sono le uniche due squadre a cui noi abbiamo concesso dei punti. Perché Sora l'unico punto che ha è quello che abbiamo lasciato noi sul campo. Anche lì stavamo vincendo due a uno, siamo riusciti a andare al tie break e poi a vincerlo. però comunque un punto lasciato su un campo di Sora, insomma. E Castellana invece abbiamo fatto proprio una brutta partita e loro hanno preso questi tre punti che ne hanno quattro quindi ci siamo fatti un po' di domande. Adesso dovremo in futuro riprenderli in tutti i modi perché sono punti che ci serviranno in chiave playoff. Tra l'altro a proposito di avversarie che sulla carta sono inferiori almeno stando nella classifica. Voi dopo aver battuto il coach Federici e la capolista Cutrufiana avete ora Manfredonia che invece è nella parte bassa. Quindi avendo un roster di ragazze molto giovani bisogna gestirle mentalmente. Sì, noi lavoriamo molto in settimana sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale perché crediamo molto che la parte mentale sia un aspetto fondamentale di questo sport ma di tutti gli sport in generale. Quindi in settimana appena ne avrò tempo io e il mio staff lavoreremo insieme alle ragazze proprio su questo punto qui perché è importante adesso prendere consapevolezza di quello che siamo ma quello che siamo in base a quello che facciamo. Quindi se il nostro gioco, la nostra attenzione è in questo modo qui allora possiamo dire la nostra con tutte quante le squadre. Se dovessimo andare verso un grado di appagamento no, nemmeno appagamento ho usato un termine sbagliato magari di tirare un pochino il fiato perché adesso le ragazze stanno spingendo veramente tanto e allora potremmo avere difficoltà con tutti, potremmo avere problemi con tutti. Questo è il terzo anno di B1 e credo anche il quinto se non sbaglio alla guida di questa tecnica, di questa società una salvezza tranquilla Quinto o sesto? Forse sesto. Forse sesto. Forse sesto, l'ho perso il conto. Però negli ultimi tre anni una salvezza tranquilla la partecipazione ai play-off e adesso? Adesso c'è il progetto con le giovani e abbiamo cambiato perché ci sembrava giusto iniziare anche noi a andare a valorizzare le giovani del nostro territorio e le società che ci danno fiducia nel farci crescere le giovani di prospettiva. Non a caso quest'anno noi abbiamo un palleggiatore che poi ha il ruolo più delicato di tutta quanta, no? Il sestetto, il settetto anzi perché c'è anche il libero. Pallabolistico che ha 15 anni ma la cosa più interessante... 15 anni per una prima squadra. Sì, poi tra l'altro ha compiuto da qualche settimana ma un giocatore che non ha mai avuto esperienze di gioco quindi non ha mai giocato né in Serie D né nella sua Under e quindi abbiamo così scommesso su di lei tanto lavoro, tanto lavoro, tanto lavoro, tanto lavoro. Una 17enne, Lucrezia Licata, la palleggiatrice, una 17enne che è Federica Gatta che ricopriva fino allo scorso anno il ruolo di opposto, non ricevitore e quest'anno invece abbiamo scommesso su di lei come il primo martello ricevitore e poi altre due giovani, Caterina Zannoni che ricopre il ruolo di secondo libero e Elisa Maria Garofalo che ricopre il ruolo di terzo schiacciatore. Poi il roster è formato da tre persone di, diciamo, un pochino più grandicelle e altre due fondamentalmente abbastanza giovani perché Quiligotti ha 22 anni e Gobine ha 23 e quindi le cito tutte così non faccia torto a nessuno. Poi abbiamo Deborah Liguori, il nostro secondo schiacciatore, giocatore di esperienza definiamolo così, il capitano Angelita Centi, altro giocatore di esperienza che ricopre il ruolo di primo centrale, il secondo centrale una persona che ha voluto fortemente che è Manuela Caponi che è una giocatrice diventata mamma, da un anno e mezzo si è rimessa in gioco, ha ripreso le scarpe, mi ha dato una mano accanto al marito che mi fa dal secondo allenatore che è Andrea Mafrisci e quindi abbiamo formato questa squadra che va in campo e diverte il sabato nelle nostre performance di partite. E non a caso il prossimo appuntamento è al Palapergolesi alle 17, quindi sabato 2 dicembre, tre ore più tardi, tre ore e mezzo più tardi, sarà in campo la Taiwan in quel di Monza, abbiamo già un po' anticipato i temi però l'occasione è propizia, è propizia Andrea. Sarebbe un bel momento se riuscissimo a vincerla, ce la metteremo tutta, adesso con questa vittoria abbiamo acquisito delle sicurezze in più, nella polla a volo ecco, la sicurezza nei gesti e nella squadra vuol dire tantissimo, oltre all'allenamento, ma quando una squadra inizia ad amalgamarsi bene allora arrivano un gioco più pulito, un gioco più sicuro e più bello anche da vedere. Benvenga, un altro paio di conclusioni, di considerazioni e curiosità prima di concludere. Andrea, quanti anni avevi al debutto in Serie 1? Avevo 19 anni. Sì, perché prima si parlava di età delle ragazze di Coach Federici, 19 anni in quel di Cuneo. Cuneo, contro Perugia. Ok, invece a proposito di anni, sono quattro anni che sei a Latina e adesso che facciamo a fine stagione visto che sei in scadenza contrattuale? Vabbè, ancora è presto per parlarne. Eh no, a Latina io sto bene, sono quattro anni che sono qua, ho trovato una bella realtà, una città comunque calda sia per il clima ma anche per persone, come gente. e quindi ecco, poi non aspetto solo a me decidere perché siamo in due parti. Bene, con Federici invece facciamo come Ferguson all'Arsenal più o meno? Sì, speriamo, non lo so. Speriamo, ormai questo è il credo sesto perché siamo partiti dalla Serie D e insieme al presidente Claudio Malfatti ho portato questa società in B1 sfiorando, come hai detto te prima, la Serie A lo scorso anno. Spero di godere sempre di più della fiducia della proprietà e quindi di continuare questo sogno meraviglioso. Bene cari ragazzi, io vi ringrazio, Andrea Rossi, Centrale Taiwan, e Tonino Federici, Coace Giovaglia. Grazie a voi, buona serata. Bene, ringrazio in regia Andrea Ravassolo, Marco Dell'Orco e Gianluca Pilò. Spazio Voli torna puntualmente martedì prossimo su Lazio TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.